buongiorno da elenia e da morgana ecco come potete vedere seconda parte big lol giusto e allora prima volevo far vedere i charm trovati nella nella bico giustamente li abbiamo attacchi nelle bombe si nelle bombe frizzle come si chiamano allora aspetta aspetta smorganare che qua sentito un cai e niente no non ne vuole sapere di farvela vedere eccolo qua questa è una bottiglietta di profumo appoggiamo sul tavolino che voi non verrete mai però vabbè poi abbiamo i due pezzi di pizza che insieme fanno un cuore di pizza poi abbiamo la polaroid con le due lol che troveremo dentro che fanno un selfie e poi abbiamo giusto sfoco tutto abbiamo la lacca eccolo qua devo farvela vedere un po in qualche maniera dai è che mette a fuoco le palline di dietro dopo mica ristate dietro come sempre perché bocca mia stai zitta eccola qua glen spray e c'è sulla pink baby no non era pink baby ma va è quella che si trova dentro la stardust queen è uguale la pettinatura è la stessa poi dobbiamo far vedere le nostre bamboline vestite vi ricordo che in una purtroppo abbiamo trovato due magliette uguali e non c'era la gonna no non era la gonna erano dei pantaloncini pantaloncini? si adesso vabbè ho contattato la giochi preziosi e vai Morgana con la sfilata di moda tatatatata io sono Bidibop con mette a fuoco troppo sotto i stivali semitasparenti che si vede no non sono stivali sono pattini eh si pattini e c'è troppo sotto vabbè Bidibop sfilata nata ok nata poi posto abbiamo aspetta Mirko come seconda concorrente dei queen eccomi tutta gritta rosa abbiamo usato i suoi pantaloni si perché giustamente non potevamo sfilare senza mutande bella ok e per ultima la cosic queen ciao io direi di votare la più bella anche se io ho un'idea di chi far vincere ce l'avrei già anch'io anch'io allora che facciamo vincere no vabbè aspettiamo vediamo le ragazze cosa commentano e poi il voto voto? no aspettiamo ok io no perché si dai il voto automaticamente allora Morgana allora tu apri una lille e una lol e una lille e una lol e dobbiamo scegliere e dobbiamo si tu l'apri con la mamma tipo dobbiamo far scegliere le lol dobbiamo cercare di fare la coppia giusto? vediamo dai allora io prendo scegli quella che vuoi questa e questa ok quindi io scelgo le due rimanenti le due rimanenti aspetta io prendo aspetta amore non ci arrivi ok allora prima cosa apriamo? la lille? allora prima apriamo la lille allora l'apro tutta ci sono cinque no fai vedere prima allora fai prima lo strato e apro lille lo strato sono cinque strati sono cinque strati facciamo vedere la bolla com'è veloce poi poi grande e dopo la bolla grande sette uno due come inizia cos'è chi ha? adesso vediamo se chi ha come inizia bene l'indizio sarà uguale aspetta amore allora l'indizio è questo che comunque penso che ce l'avrà uguale anche l'altra sì eccola qua sempre con quella bambolina dancing queen vado veloce Morgana così sì dopo vai veloce anche tu però sì la bolla deve essere oro e bianca giusto? la bolla deve essere oro e bianca sì la piccolina poi qua abbiamo i nostri soliti aspetta calmi 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 il kitty queen tanto non ce l'abbiamo nella lille kitty queen questo è il solito adesivo piccolina qua abbiamo la la splash e la kitty che si possono trovare praticamente nella wave che stiamo che apriremo tra qualche giorno perché ho preso altre due due palline di lì allora la bolla come vedete è bianca e oro andiamo subito ad aprirla allora qui abbiamo la borsa ho già capito chi è ho trovato la lille stardust queen la lille? che praticamente è la la bambolina ispirata a david bowie perché queste queste lol qui sono ispirate a due cantanti che purtroppo ci hanno lasciato che sono david bowie e prince queste sono le scarpine che si possono trovare belle qui abbiamo l'anellino che sarà sicuramente bianco bianco perché sopra ah si è bianco penso che sia bianco no è oro si va a poter le metti come vuoi tu si e andiamo a vedere la bambolina non abbiamo preparato l'acqua Morgana fa niente vedere ma anche l'occhio che è tirato ma che bella che bella vado io? boom mettiamola qua vicino ok quindi già queen b era piange dai veloce però Morgana devi fare un po' veloce se no facciamo un video di due ore e dopo sai le ragazze ci sparano ci sparano no la fanta mettila la fanta ci sparano l'indizio sarà sicuramente uguale Morgana si 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 ok vai non ci abbiamo già fatto vedere prima uguale uguale si amore uguale certo oh no ma trovo uguale o stessa ma no no non si può trovare la stessa uguale no adesso si trova la purple purple io ho trovato la star dust e la Morgana prova la purple a meno che non siamo sfortunate ma va è salsa no 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 è la vai Morgana apri come ho fatto io tanto ascolta lo sanno anche i muri cosa c'è dentro in queste muri qua ormai ecco Kitty fa la sfilata giustamente dice perché devono farla solo le lol che bella è quella della cristallo vai vai bella cristallo attenti qua troviamo l'anellino 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 qua troviamo gli occhiali occhiali che carini che carini sì e la purple la lil purple queen oh che carina wow wow come glitterosa è glitterosissima aspetta eccola qua che bella bella bu questo non penso che cambiano colore posso eccola qua io l'ho già messo no beh non si vede più poi aspetta Mirko aspetta adesso bene apro veloce vediamo alla bolla io spero che l'indizio è allora adesso apriamo vediamo se ho fatto la copia che abbiamo preso la aspetta amore amore aspetta posso dai tira piano vabbè l'indizio è star cos'è che è rock star rock star ok e ho letto wow ha messo a fuoco di brutto per una volta meno male la cosmic ho già visto come si fonda l'occhio della cosmic aspetta amore se la faccio aprire da te aspetta amore se mi metti la mano ok che bella aspetta cosmic dai tira 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 forte cosmi che sei sono stata una lora qua abbiamo i soliti indizi ma che indizi i soliti adesivi adesivi qua abbiamo la cosmic queen aspetta amore ecco la glitter queen che abbiamo qua allora tiro fuori tutto e poi apro la manetta è d'oro ragazza ma si che è d'oro amore è obbligata a essere è un altro aspetta è obbligata a essere d'oro Mirko qua abbiamo la glitter e qua abbiamo la crystal che a noi purtroppo non c'è la manca ci siamo andati vicini per un soffio alla crystal allora aspetta uno qua e qui cos'è che abbiamo come uno qua uno qua la de queen che abbiamo qui e qua la de queen che ha sfilato per noi ha sfilato per noi cosmic queen e de queen invece glitter queen ha visto la sfilata apriamo il nostro sederino della bolla come vedete è come così non c'è dentro tasta tasta allora qui abbiamo il telefono non abbiamo fatto la coppia perché io ho beccato la la purple queen è al contrario eccolo qua che carina purple tears bello è lei qui abbiamo la volevo trovare io la purple queen anche io la voglio trovare e l'abbiamo trovata ah le scarpe oh che carine sono come quelle della della quelle che serie 2 della di bebop queste qua sono le scarpe che carina anche anche se uno li abbiamo liberano che liberano è fantastico non hai cosa per aprire si ti dà la forza aspetta andiamo con le eccolo qua io comunque ho preso la qua beh io se devo essere contenta se devo dire la mia sono contenta di averla trovata io questa ecco ecco posso 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 questo è quello quello aspetta amore qua abbiamo si amore dentro bocca amore biberon biberon lo usavi anche te si infatti oh che carino no ma il vestitino che bello amore posso posso amore mi tagli tutti aspetta è come quello della jitterbug jitterbug lux e pink baby ed è la queen purple queen c'è l'ho trovata si c'è l'ho obbligato oh la stai calma che carina eccola no vabbè dire sì infatti dire che è fantastica è quasi sminuirla forse tanto qua ogni giorno è festa lei è la bambolina ispirata a prince giusto purple purple queen queen cioè vabbè no no bella 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 bellissima c'è quale sei le mani qua con il suo bibe e la sua sorellina e la sua sorellina eccole qua insieme ciao ok adesso noi ci spostiamo tocca a me tocca a me con la standard queen che è respirata David Bowie David David Bowie è difficile da dirlo buongiorno 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 adesso cosa hai trovato? mi sono persa hai già aperto gli adesivi? no, eh sì, sono gli adesivi eccole qua perfetti qua abbiamo libero qua non vi dico la carta che abbiamo sul tavolo adesso cos'è? non mi ricordo male, le scarpine il vestitino ah è il mantello, vero? si, è il mantello perché è un supereroe come? quindi andrà a sconfiggere il male con Super BB e The Queen allora liberone uso le forbici adesso non ho tagliato o nel frattempo la Kitty aspetta, sposto pian pianino ha fatto tutto il tempo nel video Kikinelle ciao saluta ciao bella bella allora questo qua è il biberon ok, vai ma a vederle così non penso che cambiano colore questo qua no ma la beh non le bagniamo lo stesso io no non abbiamo preparato l'acqua andate in fiducia sì, io no ma tanto si si che bello oh mio Dio oh mio Dio stivaletti cosa sono? un arancione pesca un pescato come si dice? pescato 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 che è italiano mamma davvero pescatore tu da pescatore sì, è un pescatore così prendo il pesce oh mio Dio è uguale da lei è uguale questi sono gli occhiali occhiali ah no è il mantello è vero? è il mantello mamma che meraviglia e poi finalmente abbiamo lei lei no vabbè oh guarda eh sì perché comunque David Bowie aveva gli occhi che erano diversi bella la vestiamo vai vestila veloce che poi abbiamo finito e abbiamo scartato tutta la Big Lol meno male guarda che abbiamo sì The Queen uguale The Queen è uguale sono uguali dici? sì sono uguali vestito vestito uguali una marea di brillantini Morgan eh già mamma mia anche sul tavolo sì vabbè no anche questo problema qua sempre mi capita perché a me capita ok se no facciamo come abbiamo fatto ieri sera a casa ah no è aperta se no la tagliavo come ieri sera ah sono tutta vai mantello ciao grande la sorellona grande grande non lo chiudo perché no dai lo facciamo poi dopo con calma se no viene un video di 26 ore è un po' strana la Duster Queen vabbè eccola qua eccola qua questa qua è la coppia coppia di gemelle bella molto bella allora ok abbiamo finito Morgana sì sì abbiamo finito però le volevo mettere ma no quella è come un puoi non puoi vabbè questo vola vola è un supereroe bene te salutiamo se no diventa un video lungo 26 ore eh sì eh sì allora con tutte queste regine nel frattempo è arrivato anche il rosso scusate ma il tigre l'ha fatto vedere in mezzo a tutte le cartacce super bibi è l'unica normale però si sente anche l'importante super bibi dov'è è bibibop bibibop sì però si sente anche l'importante allora aspetta amore quindi con tutto questo un baladà di glitter eh già gatti e tutto chi ne ha più ne metta carte carte big lol brillantini come se non ci fossero domani noi noi vi salutiamo e vi mandiamo un bacione un grosso bacio alla prossima ciao 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 ciao